A Napoli, in fila per test, sputa sanitari, operatori in quarantena. Ieri sera un medico e un'infermiera sono stati aggrediti da un uomo in attesa del tampone per il coronavirus all'ospedale Cutugno di Napoli. Spazientito per la fila, l'uomo ha sputato ai sanitari che ora sono in quarantena. Vincenzo, a te. Eleonora, un episodio inqualificabile successo qui al centro di riferimento infettivologico regionale dove vengono tutti i pazienti per poter effettuare il test sulla positività al coronavirus. Ieri sera, le ambulanze erano in fila, bisogna aspettare per fare il tampone perché poi gli ambienti vanno sanificati. Una persona, un uomo, intorno ai 50 anni, ha dato in escandescenze i sanitari. Una dottoressa che sta qui dal giorno alla notte, una stacanovista, noi la conosciamo, ha cercato di riportarlo alla calma. Lui si è tolto la mascherina e ha sputato sul viso alla dottoressa, al medico dell'infettivologia, del pronto soccorso e all'infermiere che si è frapposto per cercare di sedare questo uomo. Ha andato in escandescenza. Questa mattina il direttore generale dell'ospedale dei Colli e del Cutugno ha detto come sparare, ho perso due persone validissime perché le ho dovute mettere in quarantena e questi sono episodi assolutamente esecrabili. Chiamerò il questore, ci hanno detto che ha parlato con il questore, aspettiamo ad oras dei provvedimenti un presidio costante fuori questo ospedale. A te Leonora. Rimani collegato, gesti vergognosi che non vorremmo nemmeno raccontare, prendersela con il personale medico perché sei in fila. Ecco, le regole arrivano dal rispetto e da una situazione che va tutelata per tutti quanti. Non dobbiamo essere egoisti in questo momento, ma poi il gesto di sputare verso un medico, verso un infermiere. Il gesto simbolico, ma anche il danno che arreca. Una volta si usava la locuzione sparare sulla croce rossa, per dire infierire su chi sta cercando di prodigarsi, di fare del proprio meglio per riuscire a parare, a contenere una situazione. La riflessione è questa, che non è tanto e soltanto una questione che riguarda... Un attimo, fai finire di parlare all'ospite, adesso la precisi Vincenzo, un secondo solo. No, io concludo subito perché in questa maniera si mina alla base la solidità della macchina sanitaria. Ovviamente se ci sono due persone al pronto soccorso che si stanno prodigando, che stanno facendo tutto il possibile per riuscire a soccorrere e a dare sollievo a chi si presenta al pronto soccorso, ricordiamoci, neanche in corsia, neanche in reparto, ma al pronto soccorso, significa andare a minare, andare a compromettere la solidità del sistema. Ora, speriamo che sia un caso esolato, ma queste cose vanno censurate, vanno denunciate con tutta la forza perché sono di pregiudizio alla tenuta del sistema sanitario. Sì, però sono gesti, scusa Eleonora, che possono essere paragonati a quello dell'uomo che poi accoltella la moglie, cioè questi sono personaggi comunque violenti, il gesto non è contro il sistema sanitario, ma contro la società. Lo diventa, lo diventa, ma la società poggia sul sistema sanitario, soprattutto in questa emergenza. Allora, coronavirus, sputa contro il sanitario, il direttore ha detto, il direttore dell'ospedale è come sparare. Vincenzo, a te. Sì, appunto, volevo introdurre sulla falsaria che voi state dicendo, la locuzione che ha utilizzato è proprio perché il paziente che ha sputato in viso ai sanitari era un paziente sospetto positivo e quindi questo sputare addosso ai sanitari ha fatto sì che ipoteticamente si potesse essere diffuso il contagio, perché noi sappiamo che il contagio è proprio con la saliva, questo è il motivo per cui sono in quarantena i due sanitari a casa e dovranno fare un testo, un tampone di sorveglianza per vedere se questo contatto della saliva, appunto, tra il paziente sospetto positivo, poi sapremo se è effettivamente positivo, tra qualche ora e i sanitari avrà potuto provocare un contagio al coronavirus. Questa è la locuzione che ha utilizzato il direttore generale come sparare e proprio per la diffusione del contagio. Speriamo che la magistratura apra un fascicolo su questo. Allora, Roberta Bruzzone dall'altra parte dello studio, Giovanni Terzi collegato da Milano, dice questo direttore ho perso un medico e un infermiere validissimi che adesso devono stare in isolamento e non possono dare, come hanno fatto finora, il loro prezioso contributo. Sputare addosso a una persona quando si hanno in un momento come questo sintomologie, febbre, equivale a sparare, non c'è nessuna differenza. E poi continua, sono indignato, ci sono ragazzi che stanno dando l'anima, sottolinea Di Mauro, stamattina ho visto i neoassunti, ragazzine di 23-24 anni che forse non sanno a che cosa stanno andando incontro, pronte a dare il loro contributo in questa battaglia contro il coronavirus. Dice il direttore come sparare, se tu hai sintomi e pensi di essere infetto e sputi addosso ad una persona è come se tu in quel momento gli stia sparando. Roberta. Molto severe, quindi mi auguro e immagino comunque che la persona che si è resa responsabile di una condotta così spregevole in un contesto di altissimo allarme come questo abbia poi serissime conseguenze sul piano giudiziario. Ci auguriamo tutti che guarisca, come tutti quelli che purtroppo potenzialmente ha contagiato, ma mi auguro veramente che paghi salatissimo il conto per questa azione che è veramente un'azione intollerabile e spregevole in un contesto come questo. Ed è qualcosa che dobbiamo dire chiaro e tondo, cioè in un contesto di questo genere la pazienza è un elemento fondamentale, ma soprattutto, ripeto, condotte di questo genere sono tutt'altro che semplici manifestazioni di disagio, sono dei reati e come tali andranno perseguiti. Giovanni Terzi, Giovanni, sei collegato con noi da Milano, a te. Sì, ciao Leonore. No, io naturalmente tutto quello che è stato sottolineato adesso da Roberta Bruzzone come prima dalla dottoressa che giustamente dice i pazzi, i matti, quelli che vogliono fare del male alla società esistono e quindi il tema non è semplicemente il coronavirus, ma proprio un'attitudine alla violenza che insita in alcune persone. Io però da Milano voglio sottolineare una cosa che per me risulta molto importante. Nel momento in cui la comunicazione del Presidente Conte e di tutto il governo è stata così chiara rispetto alla gravità di questo momento. Io sto vedendo a Milano come sta reagendo. La gente è comunque molto responsabile. Io voglio guardare tutti quei cittadini che sono la maggior parte del nostro paese. Io ho solamente la visione chiaramente di Milano che stanno veramente, si sono messi in casa, restano in casa, hanno dei comportamenti responsabili, si escono, escono con le mascherine. Cioè io voglio dire c'è tutto un paese che sta rispondendo con grande dignità e con grande attenzione a questo. Io voglio sottolineare questo perché poi dopo certo ci sono purtroppo dei casi come ci sono sempre nella vita di persone che si comportano in maniera spregevole e questo è uno di quelli che va sottolineato nella cronaca. Ma ci sono così tante persone. Non parliamo dei medici che stanno facendo un lavoro straordinario, ma parliamo anche di tutti quelli che si sono messi comunque in casa e rispettano le regole senza ascoltare così, senza se e senza ma. Io voglio parlare di questi. Grazie. 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 Grazie.